Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo allora parlando del maltempo che ha messo davvero in ginocchio alcune zone del territorio arettino. Vediamo dunque il primo servizio e poi vi aggiorniamo anche su quelle che sono appunto ancora le criticità in essere. Intere frazioni senza corrente elettrica, auto in panne, scuole chiuse, l'inverno è arrivato eccome nell'aretino, interessato da una perturbazione che ha portato nelle scorse ore neve e disagi in alcune zone della provincia. Colpiti in particolar modo Casentino e Valtiberina, ma la neve alla fine è arrivata anche in città intorno alle 15.30 senza però creare particolari disagi. Tra le località del comune di Arezzo più colpite dalle nevicate, la frazione di Palazzo del Pero, nel tratto della statale 73 che porta al paese, le auto sono rimaste bloccate per ore a causa dell'assenza dei mezzi spalaneve, mentre sulla montagna degli Arettini, l'Alpe di Poti, sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per auto rimaste in panne, soprattutto nella giornata di domenica. Le zone più martoriate dalla sferzata dell'inverno sono state ebadiate da Alda e Sestino in Valtiberina e Badia Prataglia, nel comune di Poppi e Chiusi della Verna in Casentino. Le scuole qui sono rimaste chiuse ed oltre alla neve in alcuni punti la coltre bianca ha superato il metro di altezza, si è dovuto fare i conti con la mancanza di corrente elettrica. La colonna della protezione civile si è subito mossa con mezzi e uomini portando sul posto i generatori e i tecnici dell'Enel stanno già lavorando per ripristinare la corrente. C'è stato anche un difficoltoso intervento a Badia Prataglia, un soccorso a persona colta da malore, che non è stato affatto semplice, visto le condizioni della viabilità e i mezzi del 118 sono stati coaiuvati dal soccorso alpino. Disagi anche a Caprese Michelangelo, Valtiberina, dove la decisione del comune di non chiudere le scuole ha messo in serie difficoltà studenti e docenti che dopo aver raggiunto la sede scolastica si sono visti le strade invase dalla neve. Altri interventi confermano i carabinieri forestali di Chiusi della Verna, ci sono stati ma per auto rimaste in panne senza conseguenze per gli occupanti. Causa anche lungo la E45, le abbondanti nevicate hanno causato il blocco del tratto appenninico a più riprese tra Pieve e Santo Stefano, in provincia di Arezzo e soprattutto in Romagna, dove la situazione è ancora più preoccupante. Si sono alternati codice rosso e codice nero tra le 12 e le 14, l'arteria è rimasta chiusa, sempre attivo il prefiltraggio a Sansepolcro. Qui i mezzi vengono fatti uscire per il controllo dell'equipaggiamento invernale in regola e poi fatti rientrare, mentre i mezzi pesanti sono deviati in un'apposita area del territorio biturgenze. Le precipitazioni nevose dovrebbero dare un po' di tregua nelle prossime ore, prosegue però l'allerta neve sugli appennini e sui rilievi al di sopra dei 3-400 metri. Il nuovo codice giallo emesso dalla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale riguarda soprattutto il pericolo ghiaccio nelle province interne, Arezzo e Siena. Si prevede siano le più fredde. E allora abbiamo notizia dal sindaco di Poppi, Carlo Toni, che la corrente elettrica è tornata a Badia Prataglia, ma qui è stata decisa la chiusura delle scuole, ancora scuole chiuse ovviamente a Badia Tedalda, dove la situazione resta davvero molto critica, come dicevamo qui la neve ha superato il metro di altezza, e scuole chiuse anche a chiusi della Verna. Il pericolo, come già annunciato, per le prossime ore saranno le strade ghiacciate, quindi c'è davvero da fare molta, molta attenzione e da mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. Parliamo adesso del caso di Legionella, riscontrato in una signora che aveva effettuato un'operazione chirurgica in una clinica a retina. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti. Nuovi controlli alla clinica San Giuseppe Hospital di Arezzo, dove è stata riscontrata la presenza del batterio della Legionella. Il caso ha riguardato una donna di 64 anni deceduta a distanza di alcuni giorni da un'operazione chirurgica effettuata nella clinica. Era stata dimessa il 19 novembre ed era poi rientrata a Salerno dopo alcuni giorni. Aveva accusato febbre e difficoltà respiratorie. La 64enne è morta all'ospedale di Vallo della Lucania pochi giorni dopo la diagnosi di polmonite da Legionella. Da lì si è poi risaliti al ricovero nella retina e sono scattati i primi controlli che hanno dato esito positivo. In tutto quattro le ordinanze firmate dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli per vietare l'ingresso nelle quattro sale in cui era stata riscontrata la presenza del batterio ed effettuare controlli e sanificazione. L'ultimo campionamento lo scorso 4 gennaio dopo che la proprietà aveva avvertito dell'avvenuta disinfezione ma anche questa volta tre degli otto campionamenti erano risultati positivi. Da qui le ulteriori prescrizioni per giungere alla completa eliminazione della Legionella. Oggi altri campionamenti e nei prossimi giorni sapremo i risultati. Intanto la clinica ha già ottemperato a delle richieste previste dalle ordinanze del sindaco in termini di sanificazione e bonifica. Scatta domani dalle 19 lo sciopero di 48 ore dei distributori di carburante che andrà avanti fino alle 19 del 26 gennaio nella rete ordinaria per la rete autostradale. L'orario è le 22. La Faibe con Fesercenti Toscana. Il sindacato più rappresentativo della categoria ha confermato la partecipazione massiccia alla protesta. Non vogliamo più passare per speculatori e furbetti, ha detto il presidente Marco Princi. Quando i nostri prezzi alla pompa non vengono certo decisi a piacere dal gestore. Speculatori e furbetti da controllare da parte del governo con assurdi cartelli, gli ennesimi e sanzioni spropositate per aumenti che sono chiaramente legati solo al ritorno delle accise. Per questo scioperiamo sperando che i consumatori capiscano che noi siamo dalla stessa parte della barricata. Pagina della politica. Sono due le candidate alla segreteria del Partito Democratico che hanno presentato le loro idee, il loro programma ad Arezzo nelle scorse ore. Partiamo da Ellie Sklein che ieri sera ha letteralmente riempito la Casa dell'Energia. Quando facevamo le occupazioni contro le larghe intese noi dicevamo che senza la base scordatevi le altezze. È con quello stesso spirito che oggi mi candido alla segreteria del nuovo Partito Democratico forte di un'esperienza di impegno politico istituzionale in questi nove anni che mi ha insegnato tanto ogni giorno. Tanta gente alla Casa dell'Energia di Arezzo per ascoltare la proposta di Ellie Sklein, la candidata alla segreteria del Partito Democratico che arriva ad Arezzo. Il messaggio più bello è questa straordinaria partecipazione che stiamo riscontrando da sud a nord in tutto il paese. È un segnale non scontato in un momento difficile per il Partito Democratico che veniamo da una dura sconfitta elettorale il 25 settembre. Ma forse proprio per questo, perché vediamo la matrice di questo governo che è il più a destra della storia repubblicana che già ha iniziato con i suoi primi atti a colpire le fasce più fragili della nostra società, che c'è tanta voglia di ricostruire un nuovo Partito Democratico che metta al centro della sua visione per il paese l'ascolto delle sofferenze di chi si è impoverito in questi anni di crisi e quindi il contrasto a ogni forma di diseguaglianza, la necessità di sostenere fortemente la sanità pubblica ma anche la questione del lavoro su cui il PD deve ritrovare credibilità con parole molto chiare. Limitiamo i contratti a termine, alziamo i salari, mettiamo un salario minimo perché sotto una certa soglia non si può neanche chiamare lavoro e facciamo una legge sulla rappresentanza come chiedono i sindacati per spazzare via quei contratti pirata che sono ormai in alcuni settori condannano la precarietà, davvero i lavoratori e le lavoratrici e non c'è da stupirsi se oggi i dati dicono che ci sono un milione e passa giovani che rinunciano, si dimettono dal lavoro, bisogna pagarli di più bisogna che questa destra ossessionata dall'immigrazione veda che c'è l'emigrazione di tanti giovani formati in modo competente nel nostro sistema di istruzione universitario che però con salari così bassi sono costretti spesso a fare scelte di portare le proprie competenze altrove. Il luogo in cui siamo è un esempio di riqualificazione, naturalmente di restituzione anche alla comunità, alla collettività di un luogo che ha una sua storia e radici ma che ha necessità di innovarsi per ritrovare un equilibrio col pianeta e quindi certo produzione di energia pulita e rinnovabile che è quella che ci può rendere sempre più indipendenti dal punto di vista energetico con anche innovativi sistemi di accumulo costruiti con la collaborazione con le università. È un bel modello di quello che ci serve fare, guardate, perché se noi investiamo in energia pulita e rinnovabile noi abbassiamo le bollette e di questo in Italia oggi c'è grande bisogno ma abbassiamo anche le emissioni climalteranti che stanno purtroppo avvelenando il pianeta e anche la salute delle persone. Nel pomeriggio di oggi invece Paola De Micheli alla segreteria del partito di Piazza Sant'Agostino ha presentato appunto le sue idee che ci racconta sono per alcuni versi profondamente diverse dai suoi competitor. Le differenze con gli altri competitor sono molte dal modello di partito dove io sostengo un partito solido, molto solido un partito con i circoli, con le federazioni, un partito che si finanzia col finanziamento pubblico, che ritorna al finanziamento pubblico dei partiti per evitare, diciamo così, di essere troppo legato a rapporti con i privati ma anche per poter garantire una copertura di tutto il territorio della nostra presenza. Le persone devono sempre sapere a quale porta andare a bussare e dietro a quella porta devono trovare qualcuna o qualcuno di noi. un partito dove gli iscritti ritornano a contare qualcosa visto che non hanno contato quasi niente in questi anni il partito della prossimità e ringrazio il segretario Ruscelli perché è con lui che ho fatto da qualche mese la riflessione proprio sul modello del partito della prossimità noi che andiamo da loro, noi che andiamo dagli elettori noi che andiamo nei luoghi dove vivono le persone che vogliamo rappresentare e quindi un partito che abbia tempi, tra virgolette, di proselitismo cioè di vera e propria presenza dei nostri iscritti, dei nostri dirigenti nei luoghi di lavoro, negli ospedali, nelle scuole dove noi vogliamo rappresentare le persone. oltre ad un modello di partito molto diverso ai miei competitor Lashlein è più movimentista Bonaccini immagina un partito a servizio degli eletti io ho anche tutta una serie di progetti per il paese che mi distinguono particolarmente in particolar modo sulle politiche del lavoro dove propongo la riscrittura dello statuto dei lavoratori trasformandolo nello statuto dei lavori dove vengano riconosciuti diritti universali per tutte le tipologie di contrattualistica perché noi oggi abbiamo un lavoro dipendente addirittura a tempo indeterminato senza la malattia Uno dei problemi del Partito Democratico sicuramente sono state le correnti come eliminarle e come fare una sintesi di queste quattro proposte nel momento in cui ci sarà poi un segretario? Ma io non credo che le correnti siano eliminabili e chi dice che sono eliminabili si vede un Partito Democratico all'8% quando non avremo più le correnti avremo un Partito Democratico minoritario Siccome nel mio modello di partito ci sarà l'adesione di secondo grado al Partito Democratico attraverso le associazioni se si vogliono rappresentare queste diverse sensibilità bisognerà rispettare delle regole e non come hanno sempre fatto le correnti prendere dal PD ma prima dare e le regole sono che devi dimostrare che dentro al Partito Democratico rappresenti davvero degli iscritti del Partito Democratico e non solo teorici come succede spesso che devi dare delle risorse al Partito Democratico perché siamo pieni di circoli che non riescono più a pagare l'affitto e molti hanno rinunciato ad avere anche una sede fisica proprio perché le risorse sono scarse ma soprattutto devi dimostrare di organizzare dieci giornate di cultura politica e di formazione politica all'anno gratuite per tutte e per tutti iscritti ed elettori del Partito Democratico perché prima di tutto se vuoi essere un'associazione culturale collegata al Partito Democratico devi dimostrare di avere delle idee all'altezza della sfida di una comunità come la nostra E siamo alla pagina dell'economia da Vicenza Oro in corso in queste ore arrivano notizie confortanti per quello che riguarda il settore dell'orificeria Aretina Brilla il comparto orafo a Vicenza Oro la prima fiera internazionale post pandemia circa 300 le aziende del comparto Aretino presenti con il meglio della gioielleria e dell'orificeria è una fiera che sembra ricalcare gli anni 90 è tornato il mondo intero a visitare la fiera di Vicenza e poi speriamo venga il mondo intero a visitare Oro Arezzo e c'è tanto interesse c'è tanti ordinativi diciamo che il mondo dell'orificeria e per quello che mi riguarda la città di Arezzo sta vivendo ha vissuto un 2022 molto bello e si appresta a vivere un 2023 interessante gli anni della pandemia sono stati sicuramente anni bui per tutto il comparto l'export soprattutto riferito all'orificeria e alla gioielleria torna a trainare l'economia a Aretina soprattutto l'export il mondo che viene in questo caso a Vicenza e sta richiedendo prodotto Made in Italy ma soprattutto richiede prodotto Made in Arezzo e questo ci riempie d'orgoglio ecco perché amiamo la nostra città questa è la prima fiera internazionale dopo la pandemia ecco tornano anche i mercati internazionali quali sono i principali? i principali sono sempre Stati Uniti Dubai Hong Kong ma comunque Europa tutto il mondo si è riversato nella fiera di Vicenza e complimenti anche agli organizzatori di IEG perché veramente sono stati molto bravi non credo sia bene rifugio anche se in verità l'oro è sempre un bene rifugio ma credo che sia tornato un modo di acquistare un modo di vivere della gente dove siamo tornati a comprare oreficeria anche perché quando uno compra oreficeria non compra mai una bugia perché quello che paghi oggi molto probabilmente se tra tre anni ti viene a noia riprendi gli stessi soldi quindi è un modo anche per smettere di sperparare soldi in oggetti che non hanno nessun tipo di valore effettivo una curiosità che riguarda sempre il settore dell'oro per uno studente italiano su quattro la carriera tra oro e gioielli è accattivante tanto da mostrare interesse proprio per una carriera nella ideazione produzione e vendita appunto di gioielli è quanto emerge da un'indagine portata a termine da scuola.net da Feder Orafi su un campione di 3.000 alunni di scuole medie e superiori appunto uno su quattro mostra interesse verso un ruolo da protagonisti nella ideazione produzione e vendita del gioiello made in Italy molto positivo anche il riscontro da parte degli iscritti negli istituti professionali dove il 40% si dice praticamente già pronto per l'ingresso nel mondo del lavoro rimaniamo in una scuola ma in questo caso l'Isis Valdarno che questa mattina ha avuto diciamo una docente davvero molto particolare sentiamo perché nel prossimo servizio dal set cinematografico ad un'insolita cattedra per un giorno la regista e sceneggiatrice Francesca Archibucci ha infatti incontrato questa mattina le studentesse e gli studenti dell'Isis Valdarno in occasione di una proiezione speciale del suo ultimo film Colibri ho visto come si muore un po' alla volta giorno per giorno quanto dolore quanto strazio non voglio morire così l'arte è una cosa che aiuta anche nella vita ti dà degli strumenti vedendo le vite degli altri le storie degli altri ti rendi anche un po' conto di che cos'è la tua questo è sempre stato da sempre dalla nascita della tragedia greca l'uomo ha sempre avuto bisogno di vedersi e rappresentato in sala assieme alla regista anche la giovane attrice fiorentina Elisa Fossati selezionata dopo un casting al liceo in realtà nessuno si aspettava questa cosa noi ovviamente ci aspettavamo magari un ruolo come comparsa o cose del genere invece a me un altro ragazzo poi ci hanno richiamato a Roma abbiamo fatto ulteriori selezioni e poi siamo stati presi si è stato molto bello catapultati poi in questo cast spettacolari l'iniziativa rientra nel piano regionale cinema ed immagini per la scuola 2022-2023 un progetto che prevede la diffusione del linguaggio non solo del cinema ma anche delle immagini in generale per riportare i nostri ragazzi al cinema per aiutarli a decodificare i messaggi degli audiovisivi loro sono molto esperti di audiovisivi però si perde quella che è l'essenza più importante della parte artistica culturale del cinema il film Collibri ispirato all'omonimo romanzo di Sandro Veronesi premio strega 2020 è stato girato in gran parte in Toscana è un diario intimo del protagonista Mario Carrera il racconto di una vita fatta di coincidenze fatali perdite e mori assoluti in un tempo liquido che va dai primi anni 70 fino ad un futuro prossimo attraversa una storia la storia di una generazione ma porta anche a ragionare sul fine vita sulla possibilità che ognuno di noi debba avere il diritto se ci sono delle situazioni estreme di poter spengere la macchina e poter chiudere gli occhi paura di perdere il figlio appena dato alla luce è uno dei sentimenti più diffusi fra le madri che partoriscono un figlio prematuro un sentimento che accomuna entrambi i genitori ad aiutarli dallo scorso settembre all'ospedale San Donato di Arezzo c'è una psicologa Chiara Castracani specialista in psicoterapia familiare da settembre ad oggi sono già una ventina le famiglie che si sono rivolte a lei per avere un supporto psicologico un servizio disponibile nel reparto due volte a settimana e per quattro ore al giorno la paura c'è dice la professionista la madre vive uno shock quando il bambino viene portato via dai medici per accertamenti e non le viene lasciato come solitamente invece avviene subito dopo il parto quindi davvero un servizio fondamentale per questo tipo di casistiche siamo alla pagina della cultura partiamo con questo servizio che ci porta all'interno del museo archeologico di Arezzo dove è tornata nelle pieghe del tempo nelle sale e tra i reperti del museo archeologico mecenate di Arezzo è tornato nelle pieghe del tempo un percorso promosso dalla libera accademia del teatro in sinergia con la direzione regionale musei della toscana che prevede sei spettacoli in programma sino a domenica 5 febbraio dove il museo sarà palcoscenico inedito e suggestivo per gli allievi dei corsi avanzati della storica scuola cittadina che metteranno in scena interpretazioni originali ed omaggi ai grandi autori classici con varie scritture drammaturgiche è un modo per avvicinare al nostro museo i giovani che normalmente non lo inseriscono nelle proprie abitudini e invece in questo modo credo che sia una bellissima opportunità per scoprire che anche il museo può essere loro vicino e suscitare interessi stimoli tra gli appuntamenti in programma confessioni spudorate con la regia di Uberto Kovacevic anche con un cacciavito appuntito no con un cacciavito no no e perché no ti ho detto di no l'omicidio ci sono degli assassini tremendi in giro e stasera saranno qua in questo museo e spudorati come non mai racconteranno chi hanno ucciso e perché lo hanno fatto hai capito? in questo modo lei vuole raccontare pezzi neri di storia sì pezzi neri di storia ma anche begiolini a seconda dei motivi sì sì perché il colore è cangiante sì 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 con il prossimo servizio invece andiamo al teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino per un bellissimo concerto Gli ABNC Trio sul palco del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino con il concerto Starway to Back La formazione riunisce tre musicisti provenienti da diverse esperienze musicali il pianista Francesco Attesti il contrabassista Maurizio Bozzi e il batterista Michael Cucchi Tutte e tre veniamo da dimensioni musicali ognuna di noi un po' diverse abbiamo messo un mix di tutto e è venuto fuori gli ABNC In programma brani di Back Tchaikovsky e Ravel rivisitati in versione Jazz Progressive Questo progetto è stato il mio desiderio ormai da molti anni soprattutto quello dalla classica passare con una sorta di crossover alla musica Jazz Progressive Bolero si presta molto bene perché è un ritmo ripetitivo costante incisivo e appunto il dialogo fra gli strumenti può essere veramente molto vario è bellissimo è una grandissima emozione poi c'è questo crescendo continuo bisogna fare attenzione a non perdere la concentrazione e non lasciarsi trascinare troppo dalla musica perché altrimenti si perde veramente il filo Si mangerà anche casentinese alla 72esima edizione del Festival di Sanremo e a rappresentare non solo il casentino ma anche tutta la Toscana ci sarà la chef tallese di Talla dunque Francesca Bartoli già premiata nell'ottobre scorso con il riconoscimento 5 stelle d'oro per aver contribuito a diffondere la buona cucina nel mondo Francesca cucinerà per la serata finale ed è stata scelta tra le selezionatissime Lady Chef una sottosezione appunto della Federazione Italiana Cuochi siamo allo sport iniziamo con il basket perché il girone di ritorno è andato davvero bene per la scuola basket Arezzo che ha vinto contro il Legnaia Firenze preziosissimo successo in ottica classifica per la men scuola basket Arezzo che si vendica dell'eliminazione nella semifinale di Coppa di poche settimane fa vincendo in trasferta contro la Cantini Lorano Legnaia Firenze ad inizio gara premi sull'acceleratore la Legnaia su 14 a 3 il coach evangelista è costretto ad un time out che interrompe il momento positivo dei fiorentini e così punto su punto l'Amen ricuce lo strappo portandosi per la prima volta in vantaggio sul 18 a 17 dopo due tiri liberi di Rossi il quarto si chiude con la Cantini Lorano avanti di un punto l'equilibrio prova ad essere spezzato nuovamente dai padroni di casa che a metà del secondo parziale riprendono 10 lunghezze di vantaggio 35 a 25 Arezzo a un momento di sbandamento ma una tripla di Fornara prima dell'intervallo manda le squadre negli spogliatoi sul 42 a 36 a rientro in campo Legnaia mantiene qualche lunghezza di vantaggio poi il recupero a Maranto finalizzato da Vasilovinovic e sulla terza sirena i fiorentini sono avanti di una lunghezza di 55 a 54 finale si preannuncia molto combattuto l'Amen ha il grande merito di ribattere canestro su canestro agli avversari salendo di tono nella fase difensiva quando Pelucchi e Castelli segnano due triple consecutive l'inezza della gara passa nelle mani dei ragazzi di coach evangelisti in difesa la SBA blocca le soluzioni della Legnaia portandosi sul più 8 73 a 65 con meno due minuti da giocare l'Amen infine porta a casa un successo che vale tanto non solo per la classifica ma anche per il morale in vista delle prossime sfide di campionato sabato scontro diretto in chiave playoff al palestra con l'Amen che dopo due trasferte consecutive ritorna davanti al pubblico amico ospitando alle 19 il Quarrata ed infine chiudiamo con una notizia che riguarda invece il mondo del tennis grande successo per l'ASD Tennis Bibiena che ieri ha vinto il campionato d'inverno 2023 contro il Ponte d'Era il club bibienese può contare dallo scorso novembre sulla guida di Claudio Grassi ex top player che sta traghettando dunque il tennis Bibiena verso davvero una stagione di successi è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortesia attenzione arrivederci